Atterraggio imminente, SDF nemici confermati. Detmatch veterano. Bella giornata, squadra scape. Eroggio imminente, SDF nemici confermati. Sottotitoli è inizio, da T-2, UAPI di disturbo profondante. UAPI di disturbo in posizione, finanziaria in zona, posizioni segnalate. UAPI di disturbo profondante. UAPI di disturbo in posizione. UAPI di disturbo in posizione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.